Un bilancio di guerra, nel vero senso della parola, visti i due anni di pandemia, seguiti dalla crisi energetica e dal conflitto in Ucraina, che destabilizza gli equilibri e costringe a ribasso le stime di crescita. Ciò nonostante, il sindaco di Varese Galimberti plaude un documento di previsione condiviso, approvato dall'Aula nel giro di due serate, a conferma di una maggioranza solida. Per il momento, dice, ci siamo concentrati su mantenimento, consolidamento e interventi strutturali. Voce più impegnativa quella delle opere pubbliche, 100 milioni di euro per interventi legati a bandi e piano nazionale, in parte già finanziati come lo studentato di Biumo per 14 milioni, il nuovo largo Flaiano, la riqualificazione dell'ex macello di Belforte per 11 milioni e Villa Baragiola grazie ai 15 milioni ottenuti dal comune. Nonché il castello di Belforte grazie ai 5 milioni incassati dal ministero. Capitolo scuole, 22 milioni di euro per il nuovo polo scolastico di San Fermo e per quello infantile. 6 milioni vanno a servizi educativi, nidi gratis e disabilità. Quasi 10 sono destinati al sociale e al disagio, compresi assegni e sussidi. Commercio, bar e ristoranti potranno ottenere gratuitamente sedie e tavolini all'aperto fino alla fine di giugno. L'opposizione aveva chiesto l'estensione della misura fino alla fine di settembre, ma la proposta non è passata. 8 milioni sono destinati a lavori pubblici e manutenzioni, con una parte di bilancio espressamente destinata a opere idrogeologiche sui fiumi Vellone e Olona. L'ambiente potrà contare su una dote di 16 milioni di euro, in gran parte rivolta all'igiene urbana. 600 mila euro sono destinati al capitolo sicurezza, videosorveglianza compresa. Cultura, risorse garantite per i musei civici, la valorizzazione del patrimonio storico e la riapertura al pubblico della torre civica. Sport, 3 milioni per la riqualificazione del palazzetto di Masnago. Altri fondi sono destinati alle palestre di quartiere e al campo di calcinate, ambizione del momento un centro polisportivo inclusivo, la cui fattibilità però dipende dal piano nazionale di resilienza.